Bitpanda è un exchange europeo sicuro, esiste dal 2014 e regolamentato secondo le direttive Mifid. Quest'anno è arrivato anche in Italia con un team dedicato agli utenti italiani e anche un support dedicato, ovviamente in italiano, dedicato proprio a noi. È interessante perché offre degli strumenti molto particolari, anche unici oserei dire, come ad esempio la possibilità di investire in quelli che chiama criptoindici, che sono dei panieri contenenti 5, 10 o 25 criptovalute diversificate tra le top capitalizzate e ribilanciate ogni mese, quindi ci tolgono tutto il peso della gestione attiva e dell'ottimizzazione di portafoglio. Inoltre è possibile investire direttamente da Bitpanda, quindi con sempre lo stesso broker, anche in stocks, in metalli e in ETF sull'azionario, quindi i principali indici mondiali. C'è anche la versione PRO dove è possibile fare semplicemente trading, quindi anche acquisto e vendita, di cripto in euro con commissioni veramente basse, che in realtà vi dico la sincera verità, è questo il motivo per cui mi sono riavvicinato a Bitpanda. Molti di voi ultimamente mi hanno chiesto, visto che molti exchange hanno tolto la possibilità di depositare euro tramite bonifico, siamo tutti un po' in cerca di alternative e Bitpanda con il suo essere regolamentato, sicuro e avere a disposizione tanti strumenti, nonché la possibilità di operare con commissioni molto basse, è sicuramente una ottima possibile scelta. Quindi tutto questo per dire che vi sto per fare lo spiegone dall'A alla Z di Bitpanda, dove vediamo innanzitutto le sue features e le sue particolarità, e poi le mettiamo in pratica, quindi feature dopo feature andiamo a vedere come si usa in maniera concreta. Preparatevi, sarà lungo ma interessante, fate i bravi, guardatelo fino alla fine, perché analizziamo anche tutte le commissioni, insomma tutte le cose importanti che bisogna sapere, e basta, iniziamo! Buonasera amici cripto investitori e ben ritrovati a tutti quanti. Iniziamo con la presentazione di quelle che sono le features principali di Bitpanda, poi nella seconda parte del video andiamo a vedere come si usa concretamente nonché le commissioni delle varie operazioni. E vi ricordo che, come sempre, questi non sono consigli finanziari. Come vi accennavo nell'intro, Bitpanda ha la particolarità di offrire una varietà di asset, quindi criptovalute, azioni e metalli, il tutto in un'unica piattaforma, quindi questo lo rende molto comodo per chi vuole diversificare il proprio portafoglio. In particolare, il prodotto di punta da cui vorrei partire è proprio quello che automaticamente ci diversifica il portafoglio cripto, quelli che loro chiamano criptoindici. Questi criptoindici, di fatto, sono uno strumento erogato da MVIS, che è un'azienda della Vanek, che è uno degli asset manager più famosi al mondo, e di fatto ha creato tre indici contenenti 5, 10 o 25 cripto tra le più capitalizzate e liquide, utilizzando un parametro creato da loro che va a pesare, appunto, queste due cose. La cosa comoda è che questi indici mensilmente vengono ribilanciati. La logica che c'è dietro è di esporsi sulle varie cripto contenute all'interno dell'indice, pesando l'esposizione di ognuna di esse per la sua, appunto, capitalizzazione e liquidità. Quindi Bitcoin, chiaramente, avrà una maggiore esposizione rispetto a Ethereum, rispetto a BNB e così via, nell'ordine che vedete in questo prospetto, che mostra la composizione attuale degli indici. Attuale perché mese dopo mese potrebbe cambiare, in base, chiaramente, all'andamento del mercato. E proprio mese dopo mese viene ribilanciata ogni posizione, con di fatto una gestione, quindi, attiva del portafoglio stesso. L'approccio, quindi, più semplice che si potrebbe avere verso questi cripto indici, potrebbe essere, bene, io voglio investire in cripto diversificando poco, una via di mezzo o tanto, e quindi scelgo quale indice andare ad acquistare. Oltre, chiaramente, all'indice, si può includere nel proprio portafoglio, non lo so, altri Bitcoin, ad esempio, oppure stablecoin, quello dipende da noi e da come strutturare il portafoglio. Di fatto, l'andare ad acquistare un indice di questi è esattamente come andare ad acquistare una semplice cripto. Lo si detiene poi in portafoglio. Questi indici, tra l'altro, sono completamente collateralizzati, quindi non sono prodotti derivati o cose simili, ma è come esporsi sul sottostante. Di fatto, acquistando questo indice, si acquistano le cripto che ci sono come sottostante. Proprio come gli altri asset semplici, tra virgolette, presenti su Bitpanda, anche i cripto indici sono includibili in un piano d'accumulo. Quindi, tra poco, nella parte tutorial, andremo a vedere come si va a strutturare un piano d'accumulo su Bitpanda, molto semplice, vedrete, e è possibile, appunto, includere anche questi indici come acquisto periodico insieme a tutto il resto, come poi vorremmo strutturare noi. Lì dipende proprio dalla nostra idea di asset allocation che ci siamo fatta. Quindi, questa era una breve presentazione dei cripto indici. Poi, passando invece a visionare gli asset singoli, abbiamo le criptovalute, ovviamente, le azioni, andiamo a capire meglio di che cosa si tratta. Si tratta di azioni frazionate, il che vuol dire che si può acquistarle anche a partire da un euro. Non è necessario, quindi, come quando si va ad acquistare tramite, ad esempio, la propria banca, solitamente un'azione, delle azioni, il minimo importo investibile è il costo di una singola azione. Non si può comprare una parte. In questo caso, sì, grazie al fatto che queste azioni frazionate che stiamo acquistando, come è spiegato qua sotto, sono un prodotto derivato che ha come sottostante le azioni stesse. Quindi, Bitpanda detiene le azioni. Le azioni vengono depositate in una banca depositaria per motivi di custodia. Bitpanda emette questo derivato il cui valore è legato in maniera diretta alle azioni stesse. Non ci sono, vi anticipo già, commissioni overnight, commissioni particolari. Le uniche commissioni sono legate allo spread, sono commissioni indirette, le possiamo chiamare, spread al momento dell'acquisto e della vendita e le andremo a verificare poi e a spiegare bene nell'ultima parte del video dedicato proprio alle commissioni. L'operatività su questi strumenti è completamente regolamentata e quindi non c'è niente di strano, non come certi exchange che diciamo hanno provato a fare una cosa simile e poi hanno dovuto tirarsi di nuovo indietro, perché vi ricordo Bitpanda ha un exchange comunque con sede in Europa ed è compliante quindi alle normative europee e per erogare questi strumenti ha dei partner che gli permettono ovviamente di farlo in maniera completamente regolamentata. Oltre alle singole azioni è possibile andare a investire anche nei principali ETF che di fatto poi sono alcuni indici azionari diversificati che contengono un paniere di differenti azioni in base all'indice che andiamo ad acquistare. Quindi abbiamo i principali indici mondiali della borsa mondiale nonché paesi emergenti, paesi sviluppati, insomma per chi cerca un'esposizione sull'azionario un po' più strutturata, un po' più diversificata. Anche in questo caso vale il discorso che abbiamo detto prima per le stocks, ovvero con investimento minimo molto basso e con possibilità chiaramente di ottenere la controparte frazionata, quindi non c'è la necessità di acquistare l'unità intera. Infine tramite Bitpanda c'è la possibilità di investire anche in metalli, nello specifico oro, platino, argento e palladio. L'investimento in metalli, sempre con la logica della minima barriera d'ingresso, come potete vedere anche qui si può anche acquistare quantità minime, e stiamo parlando di investimento spot, quindi non stiamo comprando futures oppure ETF il cui prezzo, sapete, spesso diverge dal prezzo spot, ma stiamo acquistando metalli fisici che sono detenuti da Bitpanda e sono detenuti nello specifico in alcuni posti gestiti da dei partner che si occupano proprio di conservazione dei metalli stessi all'interno di un cavo. Ci sono anche delle assicurazioni, c'è tutto un discorso che vedremo poi tra poco quando andiamo più nello specifico, quindi nei dettagli del come si utilizzano, come si acquista e si vende, che è quello che stiamo di fatto per vedere, anche perché i prodotti adesso li abbiamo visti tutti. Andiamo quindi nella parte più pratica, quindi accediamo alla piattaforma, vediamo come si utilizza. Prima cosa, creazione dell'account. Per creare un account è sufficiente andare a fare la registrazione con email e password e poi fare il KYC. È tutto molto rapido, nel giro di un giorno o due, di solito si viene verificati. Vi lascio il link in descrizione se vi dovesse interessare registrarvi e utilizzare questa piattaforma. Chiaramente è il mio referral link. Una volta fatta la registrazione e verificato l'account, ci si trova in questa dashboard che ci fa vedere un po' la situazione complessiva del nostro portafoglio, la nostra lista dei preferiti se l'abbiamo fatta. possiamo creare un piano d'accumulo da qui, possiamo, adesso poi ne parliamo, ottenere le ricompense nel token BEST che è il token della piattaforma Bitpanda in base all'attività che abbiamo fatto e soprattutto, credo che la cosa che ci interessi di più in questa situazione è fare il primo deposito. Per fare il primo deposito, qua in alto, posso cliccare su Deposito e scegliere che cosa voglio depositare. Quindi posso depositare crypto e chiaramente mi verrà dato il mio address al quale inviare oppure posso depositare valuta fiat. Vedete, ad esempio, euro. Se io seleziono euro, vedo tutti i metodi di deposito che è possibile utilizzare. Tra cui il bonifico bancario, attenzione, anche bonifico istantaneo, volendo, è supportato. Se utilizziamo altri metodi di deposito, di pagamento, come la carta, c'è una commissione aggiuntiva. Quindi io tendo sempre a consigliare se non c'è proprio bisogno di immediatezza, cosa che comunque il bonifico istantaneo dà, a dire il vero, è meglio utilizzare il bonifico perché ci sono commissioni decisamente minori. Una volta cliccato bonifico bancario, mi fa scegliere il saldo del deposito. Posso scegliere, vedete, tra un taglio preimpostato oppure posso scriverlo io e, vedete, il minimo è 25 euro. Non ci sono commissioni per il deposito e, vedete, se c'è il bonifico istantaneo viene accreditato immediatamente, altrimenti ci sono i tempi tecnici. Una volta che ho selezionato tutto, devo dichiarare che il conto è a nome mio. Vi ricordo che se ci sono conti cointestati è sempre meglio prima sentire il support per vedere cosa fare. di solito fanno fare il KYC anche al cointestatario. Se invece il conto è a nome vostro potete tranquillamente flegare queste due spunte e fare conferma. Una volta fatto ciò vi vengono date le coordinate al quale inviare il bonifico con un identificativo che vi ricordo è da inserire nella causale perché altrimenti c'è il rischio che non si riesca a dare corrispondenza tra il bonifico e l'utente. Quindi mi raccomando ricordatevi sempre di mettere l'identificativo nella causale. Una volta fatto il bonifico si aspetta che venga accreditato ripeto tempo un giorno due quello che è e poi ci si trova il proprio saldo in euro e si può iniziare subito a fare le prime operazioni. Per fare uno scambio qualsiasi dall'interfaccia semplice perché questa è l'interfaccia semplice poi andiamo a vedere la pro le differenze tra le due sono la semplicità chiaramente perché sulla pro abbiamo gli ordini market limit eccetera e le commissioni nella versione pro le commissioni sono più basse quindi ovviamente se sapete maneggiare un'interfaccia di trading e cercate commissioni minori indubbiamente vi conviene utilizzare il pro se invece non siete avvezzi non sapete cos'è un market order limit order come funziona insomma un'interfaccia classica di trading conviene chiaramente fermarsi un attimino magari spendere qualcosina in più in commissioni e utilizzare un'interfaccia come questa io qua semplicemente clicco trade vedete posso scegliere se acquistare vendere scambiare swap significa scambiare non so una cripto con un'altra impostare un piano d'accumulo oppure riscattare un voucher se ho diritto insomma a coupon bonus e cose del genere se io ad esempio voglio andare a fare un acquisto di bitcoin in euro io cliccherò acquista poi cliccherò chiaramente bitcoin e vedete che qua mi fa scegliere quanto voglio acquistare supponiamo 50 euro mi fa la preview qua sotto e vedete posso scegliere se pagare le fee con il token best così facendo risparmio il 20% sulle fee vi dico in breve a che cosa serve il token best è il token di bitpanda il token nativo dell'exchange e la sua utilità è duplice da un lato ovviamente come abbiamo appena detto si risparmia sui costi delle commissioni sia su bitpanda normale che su bitpanda pro su bitpanda normale vengono ridotti sia gli spread che le commissioni del 20% su tutte le operazioni quindi insomma si è importante e inoltre abbiamo un programma di fidelizzazione grazie al quale se si detiene i best e si fa almeno un trade ogni mese su bitpanda normale attenzione si può richiedere le ricompense ogni mese e in sostanza maturano dello 0,5% al mese con delle maggiorazioni su questo bonus nel caso in cui si sia dei best vip ovvero si detiene un'elevata quantità di best oppure se si ha un volume di trading mensile abbastanza alto vedete ci sono questi scaglioni di incremento quindi poi bisogna fare i propri conti e vedere se ci può convenire detenerli oppure no ma tendenzialmente per il pagamento delle fee sapete che gli exchange token in generale e in questo caso quindi best conviene detenerne almeno un po' proprio per il pagamento delle fee anche soltanto per quello un'ultima cosa riguardo a best ed in particolare al suo programma di fidelizzazione un altro anno sono in arrivo alcune importanti novità e quindi con buona probabilità andranno a cercare di dare ulteriore valore al token stesso torniamo un attimo a noi noi scegliamo dicevo quanto andare ad acquistare andiamo a riepilogo e vedete ci fa la preview della transazione commissioni incluse quindi di fatto questo è quello che riceveremo per i nostri 50 euro andiamo a flegare qui facciamo compra ora e l'operazione è terminata e ci troveremo i bitcoin se andiamo a fare uno swap quindi uno scambio asset valgono esattamente le stesse considerazioni solo che anziché metterci di default euro ci farà scegliere da cosa cosa vogliamo cambiare piano d'accumulo ecco questo è interessante perché ci permette vedete di aggiungere un nuovo piano d'accumulo su quello che vogliamo quindi possiamo scegliere le cripto i cripto indici come dicevamo prima azioni etf metalli più di una di queste cose insomma possiamo andarci a strutturare il portafoglio come ci interessa supponiamo di volerlo fare sul bci5 quindi l'indice che contiene le top 5 cripto andiamo a selezionare con che cosa vogliamo andare a pagare quindi supponiamo di nuovo bonifico bancario tac mi fa inserire il mio iban e di fatto vedete la cosa bella la cosa utile è che così facendo faccio un addebito diretto sul mio conto per andare a fare un piano d'accumulo di questo tipo io lo trovo molto utile come funzionalità perché ci evita di dover fare ogni volta il bonifico e poi dal bonifico andare a fare l'operazione di acquisto oppure automatizzarla sì però comunque il bonifico va sempre fatto io non ho ancora conosciuto un exchange che permetta di fare un addebito diretto in questo modo per fare il piano di accumulo una volta fatto questo mi fa mettere la periodicità e basta poi è il classico ripeto piano d'accumulo quindi scelgo l'ammontare la periodicità e lo attivo tramite l'addebito diretto come abbiamo visto questo in realtà è quanto per ciò che riguarda la versione semplice diciamo di Bitpanda vi volevo far vedere anche la versione pro così poi andiamo a confrontare per bene le commissioni e vediamo se di fatto può convenire oppure no utilizzare questo exchange per accedere alla versione pro è sufficiente dal nostro menu iniziale vedete selezionare pro e cliccarlo tac l'account è il medesimo quindi non serve avere un account diverso se abbiamo già fatto la registrazione il kyc valgono chiaramente anche per Bitpanda però qua la differenza come vi dicevo è la versione pro quindi accedendo lo capiamo l'interfaccia si può fare un parallelo secondo me intelligente come con Coinbase che ha la versione semplice e la versione pro la versione pro vedete ha l'interfaccia classica da exchange di trading quindi abbiamo la scelta del mercato vedete qua vediamo tutti i mercati in euro e in altre valute fiat possiamo selezionare l'ordine a mercato limit o stop adesso non sto spiegare qui più di tanto che cosa sono questi ordini mercato viene eseguito immediatamente limite si sceglie il prezzo di esecuzione che deve essere più basso del prezzo di mercato per l'acquisto o più alto per la vendita e invece lo stop serve per andare a chiudere una posizione in perdita il classico stop loss quando il prezzo ad esempio scende più di tot e quindi queste sono le possibilità che abbiamo come vedete in questo caso lo spread è estremamente basso è quasi trascurabile oserei dire soprattutto in situazioni un po' meno volatili di questi giorni dove a volte lo spread si alza un po' e le commissioni sono più basse adesso andiamo a vedere bene come funzionano esattamente le commissioni in ogni caso vedete qua non cambia molto perché devo innanzitutto beh depositare gli euro spostare gli euro sul sul conto pro e lo posso fare vedete selezionando il mio account andando a fare deposito scelgo di depositare euro tac metodo di deposito metto vedete bitpanda così trasferisco dall'account bitpanda all'account bitpanda però in maniera completamente istantanea una volta fatto questo piazzo il mio ordine e così via volendo posso anche mettere la timing force e l'esecuzione vedete per andare a cambiare ripeto la timing force cosa che tendenzialmente non si fa quasi mai e l'esecuzione se voglio mettere un limit order metto post only ovvero non viene mai eseguito a mercato mentre se metto all'outtaker può venire eseguito anche a mercato beh questa è una piccola parentesi per pro che non pretendo sia compresa da tutti ma magari se qualcuno vuole approfondire questi aspetti ho fatto tanti altri video a riguardo qui abbiamo il nostro order book qui abbiamo lo storico qui abbiamo tutti i mercati e per il resto è la classica ripeto interfaccia adesso andiamo a confrontare per bene tutte le commissioni che sono sicuro che è una cosa che a molti di voi interessa quindi state ben attenti partiamo dalle commissioni di Bitpanda normale chiamiamolo la versione semplice le commissioni per un trade di cripto semplici quindi un acquisto o vendita di bitcoin sono dell'1,49% queste vengono implementate sotto forma di commissioni e spread quindi di fatto si ha un sovrapprezzo di questo tipo è possibile ridurle come vi dicevo del 20% pagandoli in token BEST per fare subito un paragone diretto con invece Bitpanda Pro poi passiamo alle commissioni di tutti gli altri strumenti che abbiamo visto Bitpanda Pro al contrario ha lo 0,1% delle cosiddette maker fee ovvero i limit order e 0,15% di taker fee molto competitiva a mio parere come commissione considerando che stiamo operando in euro e per dire o per fare un paragone Coinbase ha lo 0,5 Coinbase Pro tra l'altro mentre Coinbase normale ha fee molto più alte e più il nostro volume di trading sale più le commissioni diminuiscono e anche in questo caso pagando in BEST si riceve uno sconto del 20% sulle fee quindi andandolo a ridurre allo 0,08 maker che ripeto non è affatto male quindi è ovvio che se uno punta a minimizzare le fee e vuole operare in euro banalmente per comprare e vendere cripto Bitpanda Pro è sicuramente la piattaforma migliore di contro a che non ha tutte quelle cripto presenti su Bitpanda normale e quindi magari c'è da accontentarsi di quelle che ci sono però le principali ci sono tutte quante tornando invece agli altri prodotti allora partiamo con i cripto indici i cripto indici hanno una commissione dell'1,99% per ogni acquisto vendita o scambio all'interno del tuo indice quindi di fatto è come se ci fosse una fee del 2% al momento dell'acquisto e della vendita e inoltre al momento del ribilanciamento che lui fa operazioni chiaramente di acquisto e vendita hanno tutte una fee del 2% però questa è l'unica commissione non ci sono fee di custodia come di solito ci sono nei fondi fee di manutenzione e quant'altro soltanto il 2% non su tutto il capitale attenzione che viene ribilanciato ma su quella parte che viene utilizzata per comprare e vendere altro al momento del ribilanciamento e poi al momento in cui lo rivendo chiaramente avrò di nuovo la commissione dell'1,99% ci sono commissioni anche per i metalli leggermente diverse e sono scritte qua sotto eccole queste variano per il metallo in questione in particolare con l'oro abbiamo lo 0,5% di fee per acquisto e invece l'1% per la vendita non ci sono commissioni di deposito e assicurazione sotto i 20 grammi sopra i 20 grammi abbiamo uno 0,0125% alla settimana per la detenzione perché vi ricordo che stiamo parlando di metalli fisici che sono detenuti in un cavo argento abbiamo commissioni del 2,5% per l'acquisto e 2% per la vendita primi 200 grammi senza commissioni assicurative e al superamento 0,025% a settimana platino 2,5 2 di nuovo struttura simile a quella dell'argento mentre 0 fee di assicurazione per i primi 20 grammi e poi 0,025 palladio 2,2 acquisto 1,8 vendita niente assicurazione sotto i 20 grammi e poi 0,025 alla settimana infine abbiamo le commissioni di deposito e prelie no scusate le commissioni per le stocks mancano che si trovano nel documento dei costi che è se andate nella sezione stocks tra la documentazione lo trovate e di fatto le commissioni variano in base all'orario o meglio se si va a operare durante le fasi in cui il mercato è aperto abbiamo lo spread dello 0,5% è l'unica commissione che si paga quindi non ci sono fee di acquisto e vendita sono tutte contabilizzate come spread mentre durante le weekend e overnight ci sono degli spread più alti che possano arrivare anche al 3% di massimo quindi il mio consiglio è di operare negli orari in cui i mercati sono aperti per ridurre drasticamente le commissioni infine andiamo a vedere depositi e prelievi come vi dicevo allora sui depositi attenzione perché c'è una commissione se si fanno depositi molto piccoli e non c'è commissione vedete per i depositi superiori di queste somme che vedete ok quindi per bitcoin ad esempio 0.05 altrimenti c'è una piccola commissione di 0.0001 la cosa buona è che le commissioni sono sul prelievo sono molto competitive vedete che ad esempio per bitcoin abbiamo una fee di soli 0.0006 quindi molto minore rispetto alla media sugli altri exchange se andate a fare un conto ad esempio paragonandole con quelle di binan sono quasi 10 volte inferiori e quindi questo è sicuramente positivo anche qui abbiamo un importo minimo da prelevare che però è estremamente basso molto minore del deposito minimo e basta queste sono tutte le commissioni ripeto per il pagamento con carta poi abbiamo delle commissioni supplementari però lì sono quelle classiche insomma applicate dalla carta stessa quindi tirando le somme cosa ne penso di questo exchange allora sicuramente è un exchange molto completo e che offre strumenti unici come ad esempio i crypto index che sono quelli che mi sono più rimasti impressi c'è da dire che una gestione di questo tipo ha commissioni più alte rispetto che una cosa fai da te perché abbiamo il solito il 2% di acquisto e vendita sui crypto index e il 2% sulla parte ribilanciata ogni mese quindi è ovvio che se uno se lo fa da sé evita le commissioni però chi è che è capace ed è disposto di farsi una gestione del genere da sé e poi comunque le commissioni rispetto ai competitor principali mi viene in mente Coinbase che è quello super user friendly perché qui si paga la semplicità sono comunque assolutamente allineate e anzi le commissioni di Bitpanda Pro sono anche decisamente migliori contando anche lo spread che tendenzialmente è molto molto basso considerando che è un mercato in euro insomma la convenienza c'è il senso assolutamente c'è soprattutto per chi cerca un exchange regolamentato dove andare a operare in euro comprare vendere semplicemente bitcoin in euro potrebbe essere anche la scelta ideale per chi poi vuole andare a diversificare il portafoglio con azioni metalli e gli altri strumenti messi a disposizione oltre alle cripto usando un unico broker è sicuramente una soluzione comoda e ripeto con commissioni tutto sommato allineate alla concorrenza io a questo punto vi chiedo cosa ne pensate come vi sembra questa piattaforma e se avete dubbi domande lasciatemeli mi raccomando nei commenti che così ne discutiamo vi faccio un carissimo saluto e alla prossima